L'artigianato e le piccole e medie imprese sono il fiore all'occhiello dell'economia italiana, lo ha detto il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un messaggio, in un videomessaggio alla CNA senza l'artigianato e le PMI, non esisterebbe il Made in Italy, vorrei presentare un patrimonio da ascoltare, difendere, proteggere e valorizzare, ha aggiunto la Presidente del Consiglio. E parliamo ancora di economia, la presenza spagnola dell'Unione Europea.